A distanza di un anno siamo tornati sulla provinciale che collega Vico del Gargano a Dischitella, esattamente sul punto dove ha perso la vita a seguito di un incidente stradale Francesco Elia Ferrante. Noi siamo qui con il papà Giovanni e con la mamma Antonella. Signora, è passato un anno, è arrivata la sentenza che ha punito colui che ha causato questo incidente con un anno e quattro mesi di pena senza gli aggravati. E a voi questo non vi sta bene, vero? Soprattutto la cosa che mi dà più pena è il fatto che non solo la sentenza è irrisoria, ma soprattutto non c'è stata la sospensione della patente, è stata fatta solo per un anno, quindi non c'è stata la revoca della patente come è previsto negli omicidi stradali. Questa persona l'ho incontrata stamattina sul corso principale di Vico del Gargano alla guida dell'auto, quindi questa persona non solo è un rischio, è stato un rischio per mio figlio, ma continuerà ad esserlo perché mai punito e queste cose finiscono sempre così. Questa persona si è dichiarata come pubblico ufficiale, come capotreno delle ferrovie del Gargano ed è stato praticamente assolto, quasi assolto, ma con una pera assolutamente irrisoria, quindi a commettere ancora, a metterlo nella condizione di poter commettere ancora quello che ha commesso già, perché praticamente lui è stato accusato dal perito stradale di aver, oltre che aver percorso questo percorso di strada ad un'andatura superiore a quella prevista che è di 50 all'ora a 70, alla guida con il telefonino in mano, quindi aver superato la linea di mezzadria e ad essere, ad aver impattato mio figlio contromano sul bordo della strada, quindi tutto si risolve con un'accusa così, con una pena così banale, così irrisoria. Si aspettava una sentenza diversa? Cosa si aspettava signora? Mi aspettavo che fosse presa in considerazione la legge del 2016 che per questi casi prevede la pena minima a 5 anni, con l'ausilio degli aggravanti, invece così non è stato, perché la pena minima è stata quella dei 2 anni, gli aggravanti non sono stati assolutamente calcolati, l'unica cosa che è stata calcolata sono state le attenuanti del procedimento di patteggiamento e le attenuanti della incensuratezza di quella persona, quindi solo le attenuanti ma nessun aggravante. Che farete adesso? Noi purtroppo abbiamo le mani legate, non possiamo fare nient'altro e soprattutto la cosa che ci dà più pena è non poter neanche appellare perché fondamentalmente con il patteggiamento tu non puoi fare assolutamente nulla, quindi la cosa che io lamento è il fatto che mentre lui si può difendere con un suo avvocato io mi devo attenere a un PM, la signora Petrilli che nonostante abbia fatto tutte le indagini poi non hanno tenuto conto delle indagini che lei stessa ha fatto e la sentenza che è stata confermata dalla signora Bengi Venga che ha confermato quello che la Petrilli aveva dichiarato. Signora Antonella, resta il fatto che Francesco Elia non c'è più? Francesco era un ragazzo non perché è mio figlio ma era un ragazzo molto amato, molto conosciuto in tutto il paese perché praticamente lavorava con noi nella nostra attività ed era il punto focale della nostra attività che è crollata insieme a lui come un castello di carta. I suoi amici sono addolorati al punto che non riescono neanche più a passare la porta dell'attività perché lui era quel punto focale che ha portato via questa persona insieme al nostro cuore perché fondamentalmente ha portato via una famiglia e non solo una persona e questa cosa è talmente logorante e soprattutto è logorante il fatto che non vengono prese le giuste misure che quantomeno ti possono dare quel minimo di pace interiore perché almeno giustizia è stata fatta quindi senza il nostro figlio e senza neanche la giustizia. Una scusa alla famiglia, cioè un pentimento invece niente, questa è una cosa veramente che mi lacera il cuore come papà, mi dispiace per lui ma ha ancora molto da imparare dalla vita perché almeno una scusa, una scusa doveva avvicinarci, chiedere scusa, qualcosa doveva farlo invece non ha fatto niente, anzi si è messo in macchina, l'ho incontrato stamattina, lui ride, scherza e mio figlio sta dietro, ha una lapide, cioè non lo so, e sto fatto insomma mi lacera il cuore, questo volevo aggiungere. Grazie